Avere le voci di Pino Pisicchio, dell'Api e della Perina di Futura Libertà. Una proposta di legge che depenalizza, c'è un elemento di arcaicità che francamente sta dentro una logica di censura di tipo fascista, insomma la galera è una cosa che non ha senso. Credo che è una proposta bipartisan, credo che non avrà difficoltà ad essere approvata, potrebbe persino avere una procedura veloce all'interno delle commissioni, quindi avere la legislativa.